Cerchi un'occupazione? Vuoi dare visibilità alle tue esperienze lavorative, alle tue ambizioni? Scrivi a traguardolavoro.it. Insieme realizzeremo il tuo videocurricolo. Invia una mail allo stesso indirizzo se desideri offrire un'opportunità occupazionale nella tua azienda o all'interno della tua attività lavorativa. Potrai entrare in contatto con i candidati doni alla posizione richiesta. Traguardo Lavoro è il punto d'incontro tra domanda e offerta, un focus sul tessuto produttivo regionale e sulla formazione. E uno sportello con i consigli di esperti in materia. Traguardo Lavoro è il lunedì alle 21 su Rete8 con Mila Cantagallo e Andrea Mori dal 25 ottobre alle ore 21.